we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi finalmente sono uscite le sfide di travis scott insomma le abbiamo cercate abbiamo visto che oggi nella patch sono state inserite e adesso sono disponibili per tutti non sono assolutamente difficili ma ugualmente ve le voglio fare vedere se andiamo appunto nella sezione balla per 10 secondi sulla pista da ballo dello yacht è davvero semplicissimo per 10 volte scusatemi 10 volte 10 secondi quindi non ve lo faccio neanche vedere basta semplicemente raggiungere lo yacht e la pista da ballo è semplicissima la seconda missione forse un pochettino più così rimbalza su diverse teste giganti di astro quindi bisogna scendere ovviamente a sabbie sudate e per chi non l'avesse ancora visto troverà delle teste di travis scott di colore ocra barra oro giganti ora ci andiamo subito a provare a saltare sopra mentre l'ultima sfida ragazzi che è veramente semplicissima ci chiede di andare a visitare lo stage nella parte nord di sabbie sudate quindi sarà quasi certamente l'isola principale che è quella dove ci sarà appunto il main stage di travis come vedete ragazzi le teste giganti le potete vedere una è esattamente qua e ce ne sono altre una la in fondo una anche lì e proseguendo ce n'è una anche qua la cosa che ci interessa a noi è visitare il main stage che è proprio in costruzioni quindi davvero una cosa semplicissima vi ricordo che le ricompense sono davvero molto molto belle ci regalano schermate di caricamento e completando tutte e tre le sfide invece ci regaleranno il ballo quindi come vedete ragazzi c'è già un po di movimento ed è davvero una cosa semplicissima visitare il main stage che adesso purtroppo è stato distrutto noi proviamo ad atterrarci sopra ugualmente e non è questo qua è il main stage ma chi era questo il main stage era era questo il main stage e quindi non è quello il main stage è quello lì doveva essere il main stage main stage a b2 ragazzi main stage a b2 scusatemi era nell'isola quello un pochettino più grande insomma davvero una roba facilissima comunque era quello è lì da qualche parte trovatevi sto main stage noi ci vediamo in live su twitch ciao ciao ciao